È un'iniziativa che è nata naturalmente in collaborazione tra Rezzana e Conad insieme a questo bellissimo progetto che ritengo che vada a unire il passato, il presente e il futuro e la riscoperta di tanti valori, un passaggio di testimone, quello che viene fatto tra un genitore del proprio figlio e a sua volta il figlio ricomporrà nuovamente questo gesto emozionale che è quello di un album delle figurine. È un valore, ritengo, importante, è un qualche cosa che porta sentimenti indelebili nella vita di ognuno perché ognuno di noi ha iniziato da bambino con le figurine e quindi sono ricordi che si portano in eterno. Conad, come sappiamo, è uscito come socio da poco tempo in Rezzana ma rimane indelebile il rapporto in Rezzana. La sua presenza per noi è in qualche cosa di estremamente importante, la vicinanza, il calore, iniziative come queste non danno altro che continuità a tutto quello che si è creato precedentemente, una presenza sul territorio. Conad in Rezzana rimane esattamente come prima in forma leggermente differente.